L'esposizione di Edward e Nancy Kinnols rappresenta uno spaccato dell'arte californiano degli anni 60. Un momento storico non ancora completamente riconosciuto, che sarà certamente una sorpresa per il pubblico italiano ed europeo, perché porta all'attenzione del grande pubblico dei soggetti estremamente forti, estremamente politici e connotati da una radicalità di posizione degli artisti su dei temi oggi ancora estremamente attuali, come la pedofilia, il razzismo, l'utilizzazione televisiva per comunicare una serie di scarti interpretativi e così via. Andrea Staulezio La chiusura diủ La chiusura di un corrispice Di questo studio era una giornata 24 ore al giorno, e una cosa che si furia e lo stririamo a soprattutto gli altri e lo lavoriamo a unremamente di destra comune una cosa che si poteva di un imbieto la persona che si viste qualcosa sotto la scuola, poteva qualcosa in la notizia, poteva qualcosa e se fosse qualcosa che ci ha fatto, se continui a parlare di questo, quindi si continui a parlare di questo, e quindi a fare questo visuale. E quindi a fare questo visuale, poi possiamo prendere questo problema, se fosse child abuse o quattro, e passeremo a la prossima, passeremo a la collettor, a la musea, o a doveva, ended up and it would kind of free us to go on and to think about other things but there are always reoccurring themes in the Keynote's works and it's life, death, religion, women and here we have that exactly the same thing, life, death, religion, but there are some and you know woman is objects that a woman isn't. you